vai 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 che moda vola e le dà fastidio e le dà fastidio ragione la vai a petto la pallina c'è solo quella della ditta guarda come correvano le zampe aperte chiamala chiamala batti le mani ehi che senti che cosa senti claudia attira l'attenzione della nana irottola la nana è gigante per me è nana penso che tiffi a tre mesi era quanto la sua zampa sta facendo giracab che fai che fai che fai guarda cosa ha combinato tre fiocchetti ma che combini ma tu già ce l'hai il fiocchetto quanti fiocchetti vuoi? è una peste una nanetta si sta contenta si sta contentissima no la pallina non la vuole no zia claudia me lo interessa? no eh vabbè quella che voglio affeggiare la settimana prossima eh tonia dovrebbe fare la spisa la settimana prossima sta facendo girare la testa eh si fa la pazza vieni qua vieni qua ah l'ho presa l'ho presa mettimi giù mettimi giù mettimi giù girati c'hai un filo d'erba in bocca ah chiamiamolo anguilla angui oppure lilla diminutivo di anguilla ma vuoi strano questo vai zia Chiara corri corri si solo che gira in tondo corri venite qua verso di me andiamo dal camere amore chi è che sto piangendo? sto tornando io da tornacca da lì penso ti vuole Claudio oh guarda quella pantilla ti sei stancato un poco? il sole è proprio contro ti sei stancato un pochettino? è vero c'ha un filo d'erba proprio proprio in bocca si e mira aspetta si è stancata sono scaricate le batterie fiume no basta 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 non basta non basta non basta non basta è